Ciao ragazzi bentornati oggi con l'analisi del team numero 2 The Footbird infatti è uscita la nuova squadra che vede un sacco di giocatori che almeno dalle statistiche sembrerebbero essere interessanti quindi senza perderci troppo in chiacchiere ce li andiamo a guardare subito a partire dal buon Thomas Lemar che diventa 4-5 e che lo sapete che in questa promozione stanno boostando stelle skill e stelle di piede debole piede sinistro ma insomma non è un problema 1,71m rendimento normale normale andiamo a vedere le stats che di velocità sono sicuramente ottime comunque visto che stiamo parlando di un esterno una finalizzazione che non è proprio altissima, una buona potenza tiro, posizionamento d'attacco buono, tirata a distanza buoni per quanto riguarda i passaggi ha un ottimo passaggio corto e anche un discreto passaggio lungo anche abbinato a un buon effetto agilità 92, equilibrio 91, reattività 83 questo è tanta roba anche a livello di agilità in game ovviamente le stats difensive non ci vanno a interessare più di tanto mentre ha un'ottima resistenza e forse aggressività diciamo per un giocatore come lui parametri nella norma quindi io questo lemar lo vado sicuramente a consigliare soprattutto se avete bisogno di un esterno appunto francese indipendentemente che sia liga o altro questo potrebbe fare sicuramente al caso vostro andiamo avanti abbiamo il buon Eggstein un metro 81, alto, alto, 5,4 questo qui anche in relazione al prezzo vistosi agire intorno a 90k secondo me è tanto interessante perché tralasciando l'accelerazione insomma che non è delle migliori ha comunque una buona velocità scatto insomma per una mezzala tanta roba ha un'ottima potenza tiro e un ottimo tiro dalla distanza che per una mezzala insomma si traduce nella possibilità di poter anche avere licenza di uccidere davanti passaggi corti e lunghi vanno alla grandissima agilità 82 peccato l'equilibrio che sapete bene rischia di farlo diventare un po' un tronco in mezzo al campo però è comunque alto 1,81m quindi non è altissimo questo ha un body type che magari potrebbe dargli una mano visto che ha comunque reattività 87 controllo palla 89 freddezza 84 intercettazione 81 lettura difensiva 85 contrasto in piedi 88 aggressività 74 è un po' bassina però 80 di forza 99 e resistenza giocano dalla sua quindi parere su questo giocatore che diciamo visto che in bundesliga soprattutto mancano carte speciali per andare a upgradare le vostre squadre questo qui anche visto il boa tengues bc che è uscito al quale magari si deve dare intesa con un centrocampista tedesco nel 4-5-1 un tentativo secondo me glielo si potrebbe anche dare andiamo poi da buon Virgil van Dijk che insomma non ha bisogno di presentazione riceve un upgrade per quanto riguarda le stelle di piede debole e le stats sono sicuramente interessantissime ovviamente perché a essere veloce è veloce per un difensore addirittura di 86 potenza tiro ottimi passaggi 92 freddezza un'ottima reattività agilità ed equilibrio insomma parametri che per un difensore sappiamo non essere altissimi tranne proprio per la versione Toti di Virgil statistiche difensive che sono incredibili e anche aggressività e forza sono tanta roba l'unico problema tra virgolette di questo van Dijk che è l'ennesima versione speciale di Virgil quindi secondo me è inutile andare a strapagare una carta del genere piuttosto andare a prendere una delle sue versioni precedenti che sebbene non abbia il 5 piede debole che poco ce ne facciamo rendono comunque alla grandissima in game per quello che comunque è uno dei migliori difensori del gioco quest'anno arriviamo a una delle carte sicuramente più interessanti il buon Hangel di Maria è il Fideo un metro e ottanta piede sinistro che vede un boost pazzesco per quanto riguarda piede debole e mosse abilità quindi diviene 5-5 andiamo a vedere le stats perché è sicuramente un fulmine di guerra con velocità e accelerazione 93-92 posizionamento di attacco 95 finalizzazione 86 potenza tiro 94 tiri dalla distanza 95, tiri al volo 87, rigori 83 ha sicuramente delle stats di tiro che sono entusiasmanti anche per quanto riguarda i passaggi siamo veramente su livelli alti sia per il corto che per il lungo che per l'effetto aggirità 99, equilibrio 82, elettività 87 freddezza 89 sono altri valori che parlano per lui resistenza 82 anche ci siamo aggressività 77 poco ci importa insomma il valore del giudizio che do io di questa carta guardandolo è sicuramente una carta da provare visto che comunque il prezzo non è neanche troppo elevato e a destra non è che c'è questa grandissima abbondanza di ad e di e di l'unico problema è che l'ho visto utilizzare dal mio amico Danny in weekend league e almeno ad una ad una prima occhiata sembrava che facesse un po' fatica a girarsi ma insomma questo un tentativo io lo si può dare perché ricordatevi che tutti tutte queste analisi sono fatte semplicemente guardando dei numeri poi bisogna vedere se il giocatore rende in game ed effettivamente se uno ci si trova o meno però questo sicuramente da esterno da COC o anche da seconda punta in un attacca a due potrebbe dire potrebbe dire la sua un'altra carta che mi ha stupito è sto Teo Hernandez che è 5-4 piede sinistro 1,84 alto normale e credo sia tanta roba perché è super veloce ovviamente per quanto riguarda il tiro poco ci importa è un terzino ha un corto passaggio di 98 è lungo un po' me l'effetto ci siamo agilità 91 equilibrio 74 reattività 80 freddezza 79 anche lì mi ha lasciato un pochettino perplesso statistiche difensive ottime e poi un'ottima anche resistenza forse aggressività questo è sicuramente il top se avete bisogno di un terzino sinistro francese per linkare che so Bappé esterno piuttosto che Varane difensore centrale ma sicuramente questo è diventato top anche per le vostre serie A e vi dirò di più questo qui secondo me può rendere alla grandissima anche se lo andate a switchare in game e lo piazzate proprio difensore centrale e veramente mi ha stupito e soprattutto su Road to Glory questa è una carta che ho intenzione di andare a provare qualora riesco appunto ad arrivare ai crediti necessari per acquistarlo un altro giocatore ottimo per la serie A è il buon Douglas Costa che riceve un boost anche lui per quanto riguarda le stelle del piede debole infatti diventa 5-5 1-72 quindi anche un body type più interessante velocità al massimo praticamente statistiche di tiro che sembrano buone guardando la carta ma c'è quel 75 di finalizzazione che lo penalizza tanto perché questa qui è una carta che secondo me si potrebbe giocare anche in un attacco a 2 però quel parametro lì di finalizzazione lo va a penalizzare quindi direi che per sto Douglas Costa il ruolo migliore rimane rimane all'esterno insomma a macinare lì sulla fascia largo e via passaggio corto buono lungo un po' così l'effetto ci sta agilità 97 equilibrio 95 rettità 83 lo rendono ultra super veloce quindi proprio pronto a lasciare sul posto i suoi avversari freddezza 83 anche ci siamo la resistenza è buona quindi sto Douglas Costa pure è approvato visto che costa anche sui 650 su xbox non costa troppo e questo magari vi può linkare un Marcello vi può linkare Ronaldo vi può linkare Neymar la versione COC quindi questo qui secondo me merita e finalmente ha ricevuto una versione utilizzabile visto che appunto le serie del piede debole l'hanno sempre penalizzato al buon Douglas un'altra carta utile quest'anno è sicuramente sto dendi da costa perché tutti vi ricorderete il tozzo l'anno scorso quanto era forte lo so pure io alto alto 1.87 5.4 molto molto veloce statistiche di tiro che non ci importano passaggio corto e lungo ottimi per quanto riguarda agilità equilibrio e reattività anche sono dei parametri molto interessanti visto che si tratta comunque di un cristone di 1.87 freddezza 82 ottima per quanto riguarda le statistiche di difesa sono veramente interessanti elevazione resistenza forza aggressività anche se sono tutti quanti i parametri che fanno al caso nostro ma quello che rende secondo me questo da costa tra virgolette speciale è la possibilità di andarvi a linkare il buon Boateng flashback che per me è uno dei difensori più forti che si è uscito quest'anno e di conseguenza questo qui è veramente la risposta sulla fascia destra in difesa e secondo me un tentativo io lo si può dare arriviamo al Bombail 1.85 5.4 quindi gli boostano in maniera incredibile quelle che sono le stelle del piede debole che appunto è sempre stato il suo problema velocità è super veloce statistiche di tiro che sono tutte quante ultra complete anche quelle di passaggio sia al corto che al lungo altissimi visione ottima agilità 86 punto dolente l'equilibrio perché unito al fatto che 1.85 è comunque in game risulta bello pesante questo rischia di essere problematico in termini di girarsi poi la freddezza è altissima anche le statistiche di fisico con forza 90 resistenza 82 aggressività 73 sono buone l'unico discorso che io faccio con sto Bail è che di versioni speciali già ne ha ricevute e non se ne sono visti tanti in giro di conseguenza questo credo sia indicativo visto che comunque stiamo parlando di una carta che va a costare un milione e otto ed è ultra hypata sicuramente la punta non la può fare visto che è bello pesantino il ruolo rimane da preferire secondo me quello di esterno e lì può dire può dire sicuramente la sua ma attenti a non strapagarlo perché insomma un milione e otto queste carte che appena escono sono ultra mega mega hypate e poi in game magari si vanno a rivelare per quello che sono realmente non per quello che appare sulla carta vedi ad esempio il buon Griezmann che si è rivelato una sola a 360 gradi andando avanti abbiamo il buon Pogba nella pagina di dopo esatto finalmente finalmente direi il buon Polpoba che ritorna ad avere una carta che può essere lontanamente utilizzabile insomma alto normale 5-5 velocità che siamo lì 74 di accelerazione 87 di velocità di scatto statistiche di tiro che parlano per lui passaggio anche alla grande con il corto il lungo un ottimo effetto agilità 81 equilibrio 71 questo per un giocatore di 1,91 anche qui siamo alle solide si traduce nel fatto che in mezzo al campo comunque appare un po' pesante soprattutto per quanto riguarda lo scivolamento con l'L2 questo potrebbe andare a incidere in maniera significativa anche se ha poi reattività 88 freddezza 94 e statistiche di fisico impressionanti il grosso problema di sto Pogba attualmente è il prezzo secondo me perché costa 2 milioni e mezzo quindi con 2 milioni e mezzo io penso subito cavolo mi vado a comprare un Cattentoti cavolo mi vado a comprare un De Jong Toti cavolo mi vado a comprare un Bieramid cioè per carità ritorniamo al discorso di prima questa è una carta che sicuramente può dire la sua però è ultra ipata non vale mai una carta del genere 2 milioni e mezzo secondo me poi è Pogba quindi la gente si fomenta lo mettono a prezzi altissimi e c'è anche chi lo compra ho visto però piuttosto che andarlo a comprare soprattutto adesso per provarlo aspetterei un po' di vedere se il prezzo si assesta o altrimenti tanti saluti al caro Pogba secondo me perché quest'anno non è stato propriamente il suo gioco visto che si prediligono tanto i giocatori reattivi ed agili anche in mezzo al campo e andrei piuttosto su su altro tra queste carte qui c'è anche Lasagna il quale è estinto attualmente e ho avuto modo di analizzarne le stats prima ah no abbiamo anche la Gazette fermi me l'ho dimenticato che è 1,75 alto alto con 4,5 e tanta roba alle stats di velocità quindi sicuramente veloce 92 di finalizzazione 91 di potenza tiro è tanta roba passaggio corto 88 è lungo un po' così e così freddezza 90 agita 88 equilibrio 88 reattività 90 è un'ottima resistenza forza anche così e così ragazzi voi conoscete bene il mio amore per Dalglish questo qui è praticamente il Dalglish francese della Premier League perché sicuramente risulterà in game bello agile ma ha comunque un body type differente sapete che per me il body type che hanno giocatori come Dalglish e Butraghenio è un qualcosa di unico sicuramente questo è comunque una carta sfiziosa che merita non costa manco troppo un milioncino questo qui per me li vale tutti sicuramente si candida ad essere l'attaccante più forte di Premier attualmente e probabile che gli possa anche dare un try al buon Alexander ma qualora avessi comunque dei crediti da parte preferirei piuttosto aspettare mettere magari un 200k in più per andare sul Dalglish che è un usato garantito perché questi qui come vi ho detto in precedenza poi devono essere sempre provati per vedere come rendono in realtà e ritornando al buon lasagna il buon lasagna praticamente io lo definirei il son della serie A visto che non costa manco troppo anche se andranno ad alzare sicuramente il price range ed è una carta interessante appunto se avete una serie A ce la potete andare ad inserire una bellezza e secondo me può risultare molto valido poi abbiamo i soliti ignoti all'interno degli obiettivi e delle sfide creazione rosa allora abbiamo come obiettivi il buon Bakayoko che ho visto le sfide raga qua ritorniamo sempre al solito discorso questa è una carta gratis e sebbene voi dobbiate andare a fare delle sfide in rivals che sappiamo tutti quanto sia noioso nulla vi toglie insomma di mettervi lì tryhardare un po' questo Bakayoko sbloccarvelo perché vi può ritornare utile c'ha delle stats incredibili ho avuto anche feedback da chi l'ha provato hanno detto che è ritornato un po' il Bakayoko dei tempi di FIFA 18 ma su questo vi poterò dire di più a metà settimana prossima perché lo vado a sbloccare su Road to Glory sicuramente perché entra perfettamente proprio nella nella mia squadra poi abbiamo sto Cordoba il quale anche qui è gratis ragazzi ancora meglio di Bakayoko perché le sfide che dovete fare sono all'interno delle squad battles quindi è comunque un attaccante 86 che vi potete andare a provare potete usare da super sub se proprio proprio non vi piace se tutto va male prendete e lo lanciate all'interno di una di una sbc in maniera in maniera prepotente quindi nulla direi che ci siamo abbiamo analizzato per bene questo team 2 del footbird e fatemi sapere se magari avete già preso qualcuno l'avete provato e com'è così giù ci confrontiamo un po' su ste carte e niente io vi ringrazio vi do appuntamento qui in un prossimo video e vi saluto peace ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti